Il ministro Speranza, l'uomo che dovrebbe occuparsi della nostra salute, che si presenta in televisione con questo pallore spettrale grigiastro e che solo per il cognome che porta ti fa venire voglia di fare tutti gli scongiuri del caso. Io avrei mille questioni da discutere con gli esperti del CTS, vorrei capire, sinceramente vorrei capire. L'unica cosa che mi resta da fare è evidentemente di rispettare le regole. Mi dicono cosa fare e io lo faccio. I problemi però sono due. Il primo, ma chi sceglie di fare queste regole non può farle il venerdì sera in modo tale da usare il sabato, la domenica per attrezzarsi e lunedì mattina ripartire osservando le regole, visto che hanno delle implicazioni di natura anche penale per gli amministratori delle società? Chi se ne esce con un decreto il martedì notte o il mercoledì mattina, insomma in un giorno infrasettimanale? La prima cosa che mi fa capire è che sicuramente è scollato dal mondo del lavoro, perché il mercoledì non è un giorno di riposo. Cioè fisiologicamente si lavora di più il mercoledì, il martedì, il giovedì, che non il sabato e la domenica. E quindi come faccio io ad avvertire un dipendente? Cioè allargo il discorso. Qui a Milanimal ci sono sei dipendenti più un'altra mezza dozzina di collaboratori. Come faccio io in piena notte a seguito di un decreto che eventualmente potrebbe fermare una parte delle attività ad avvisarli? Che cazzo faccio? Li chiamo in piena notte? In piena notte dico ragazzi, riunione, pronti via, zoom, teleconferenza e partiamo? Ecco, seppure spenta la luce. Cioè questa è l'influenza, capite? Questa è l'influenza di speranza. Questa roba qua capita perché di mezzo c'è speranza. A che punto ero? Cioè mi sono un po' perso. Ah sì, il mercoledì, il sabato e la domenica. Cioè uno che lavora. Vi spiego cosa faccio io la domenica sera. La domenica sera io prendo la mia agenda, la guardo e vedo tutto quello che ho da fare dal lunedì alla domenica dopo. Questo non è che lo faccio solo io perché sono pazzo, ho la sindrome di Asperger e quindi devo avere il controllo su tutto. Ma lo fa chiunque. Cioè chiunque abbia un lavoro all'inizio della settimana controlla tutte le scadenze della settimana. Semplice. Come fa uno a uscirsene con un decreto il martedì notte? Come faccio io ad avvisare uno dei miei dipendenti o più dipendenti che magari a seguito del decreto li devo lasciare in cassa integrazione? Come si fa? Com'è che si spiegano queste cose? Io non sto discutendo del decreto che comunque sia dal mio miserissimo punto di osservazione vive di alcune lacune. Ad esempio, quando in un decreto si scrive, si consiglia, capite bene che era meglio non scrivere un bel cazzo di niente. Perché o si impone alle persone un determinato comportamento e una sanzione nel momento in cui si contraviene quel comportamento o altrimenti si consiglia, non va scritto in un decreto. Si consiglia, me lo dice mio padre, mia madre, la nonna, ma non il decreto, non il governo. Il governo mi dice quello che bisogna fare e quello che non bisogna fare. Vabbè, detto questo, cosa vi devo dire? Mi rimetto la mia mascherina e torno a lavorare con gli occhiali appannati.